Eeeh, nuova parte di Terraria, saluta! Hello! Ok, quindi adesso andiamo in giro. Ma cosa cacchio? Cosa è quel coso? È un occhio, però è... No, no, no! Fermo! Spe, 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 nie, spe! Non so, faccio la Tungstenosword. Ah, e se vuoi fare una anche a me, perché mi sa che non minerali, come la parte... Eeeh, non finito. Ah, no, uffa, vabbè. Posso farti la spada corte in ferro. Però finiamo tutto il ferro che abbiamo. No, no, no. Se vuoi tiro questa. Io ho tre di teen ore. No, è extra velocità, non va bene. Perché no? Eeeh, perché fanno solo in avanti. Tieni. Vieni, entra dentro la casa. Sono già in casa. Ok, sono già in casa. Con un bel cappello da contadino. Questo qui è per te, e questo qui è mio. Slow iron. No, ho fatto l'extra velocità. Tonto sono, coglione. Perché? Aspetta, eh. Apri la porta. Via! Ma come si ammazzano bene con questa spada qua, anche se l'entra come la merda. Eh, filati. Sempre meglio che questa. Ecco, facciamo fuori un po' di G. Questi lasciali farà mai che ci riesco io meglio. Vabbè, ammai. Ok. Mica, uno di... Ok, poco, effettivamente. Cos'è quel coso? Ah, è entrato uno scogliatore in acqua. Fantastico. Uno scogliatore in acqua. Guarda come cazzo, vado piano! Sì, vedo un bel po' di lag, effettivamente. Eh, sì. In effetti c'è un bel po' di lag. Andiamo all'altro lato. Se mai chiudo... Chiudo Chrome. Ok. Ah, perché stamattina ero da solo a casa, quindi si riusciva... Adesso no. Guarda quanto sono... ...fuori a cavallo. Spiegami il tuo segreto. Eh... Nel mio intimo a Cecilli. Eh, giustamente. Vieni, vieni di qua. Eh, eh, eh. Quanta potenza. Ok, quindi adesso esploriamo... Ah, ok, faccio... Sono... Sì, la mia torcia. Sono una torcia umana. Tipo quella dei Fantastici Quattro. No, merda, che ti ho detto fai la torcia, però... Sì. Fuori dall'acqua. Aspetta, aspetta. Devo uccidere prima questo. Quanto lag, lag, lag... Lag, lag. Quanto lag. Lag! Ok, a me ce la piazzo la torcia. Aiuto! Ok. Ne piazzano anche qua. Ma è tipo un cappello che fa luce, mi sa di sì. Sì, il cappello dominatore. Eh, sarebbe molto comodo avere preso. No, merda, merda, merda. Mori! Ok. C'è un materiale qui sopra. C'è un materiale? Le torce ovviamente le ho messe io, ma... Come sa, c'è un qualcosa qui. Non riesco a vedere, però, cosa sia di preciso. Allora, ok. Questo lo faccio io, come mostro, sempre se riesci a salire. Sennò tu scava. Vedete io, là. Che schifo se scavare in salto. Scomodo. Si intera il click-click del mio mouse tutto il tempo. Ozzo! Mi sa che te l'aria è un po' anche questa. Ma ce la fai? Sì, sì, adesso ci arrivo. Vieni. Sai, sto cercando di fare in modo di essere in grado di... Ecco. Bravissimo. Ecco, così abbiamo... Merda, merda, merda. Minchia, quanta gente. Aia! È comoda la tua spada. Quella tua, sì. Eh, sì, dico quella, infatti. Non mica la tua. Ma ci conviene andare giù di notte. Non è che di notte c'è più gente. Ma sì, cazzo tene. Ah, ok. No, dovevamo salire su, ho sbagliato. Su? Sì. Eh, ma... Ce la fai? Ok. Credevo si fermasse, intendo dobbiamo salire qui su. Il cappello non so quanto mi sia d'aiuto, però sicuramente mi rende molto più brutto. Questo sì, poco ma sicuro. Ah, però se mi dà, non so, uno in meno di danni... Ma guarda! Uh-huh! Ce la fai? Eh sì. Te la faccio. Tanto piazza una piazza. Scadiamo le montagne. Uh-huh! Scadiamo le montagne. Eh, guarda, guarda come hai fatto male. Sembra un contadino di merda. Lago, 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 lago. L'occhio, l'occhio, l'occhio! Occhi, occhi, occhi. Occhi, occhi. Occhio all'occhio. Occhio, 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 occhio. Porca puttata. Eh, morite tutti! Tu c'hai delle tocce? Eh, no. No, non mi ricordo. Appena, appena sott'abbivo lo tenendo qualcuno, se non ce l'hai. No, posso farmela. Ah, ok, già fatta, bene. Dove cazzo le... Ok, ce la qua. Le metto un po' in giro, perché ci serve. Ehm, ok. Che bello, sfocchiamo, tolge. Ok, ok, sali, 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 sali. Perché? Ah, ops. C'era un altro occhio. Venga, venga. Lo ammazziamo. Mizzica, già c'hai poca vita. Devo abituare i miei comandi, perché tipo, non c'ho... Non ho poca vita, ho due cuori e mezzo. Ah, hai poca vita. Per me poca vita è un cuore. Vai, ne si apriamo qua così. Sto facendo. Eh sì, cosa devo fare? Eh no, dovevo, volevo... Ah, ok, ok. Volevo esplorare tutto. Penso che direi ci sia il deserto, credo. Fa vedere. Ma non l'abbiamo ancora esplorato, effettivamente. Ma quanto cazzo laggo? Io non ho visto sto cuore, ma non perché lagga, ho perché sono stupido. Oh, prendi le stelle? No, io laggo. Guarda quante stelle. Merda, spada di merda. Che ho fatto attenzione sulla tua... E non sulla mia. Eh, hai chiuso tutto, vero? Chrome, Firefox... Sì, sì, sì. Oh, va, vento, no. Sì, sì. Ci sei? Sì? Mi senti? Ah! Morto. No, sei morto? Già. Ma... Ma no! Io ti vedo ancora vivo. Vuol dire che stanno attaccando me? No, devo scappare. Micchia, quanto sta andando bene la connessione adesso? Madonna, che merda. Il punto è che ti sento bene. Ah! Eh, ma forse... Eccoli gli occhi, sono arrivati. Forse ho un po' di calo in... Boh, non lo so. Forse non in upload, ma... Merda, 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 merda. Forse sei tu che vai dentro in download. Sì, sì. No, sono morto anche io. Meglio, così andiamo... Siamo insieme almeno. Geli è diventato un mucchio di carne. Ci potenziamo un po'. Ci facciamo delle armature e roba del genere. Eh, se lo avessimo minerali in abbondanza. Però, purtroppo, no. Uh, prendi la stella. Là. Quante stelle abbiamo? Io ne ho quattro di stelle. Ne metto tutte qui dentro. Io? No, devi usarle per farti il mana. Eh, ma ne ho poche. Cioè, quante ce ne vogliono? Eh, tre per farne una. Ah, ok. Allora ne... Faccio una. Ehm... Dove vanno fatte? Ah, ok. Trovata, 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 trovata. E come si usano? Eh, devi clic... Devi prenderla. Eh, dall'inventario. E cliccala su te stesso con il tasto... Sinistro. Ok, hai fatto. C'ho due di mana. Stam power. Eh, di armature dobbiamo... Dobbiamo trovare per l'appunto quel cuore che ti ho detto. Che fa cadere un meteorite. Il cuore che fa un meteorite? Sì. E quel meteorite, se prendiamo la roba, ci possiamo fare una mega super armatura. E un fucile laser. Che con l'aeromatura completa il fucile laser non spreca mano. Non l'ho capito. Io mi devo sto cappello, che anche se mi da magari uno di armatura... Ti sapevo su. Il slot non sta... Ok, sono mitestetico a sta merda, via. A me non sembro più un contadino, guarda. Aspetta, facciamo così. Ah, beh, perché quei capelli sono molto meglio. Vabbè, sì, meglio di un contadino, vai. Ok, allora. Sono un po' più minaccioso, credo. Sono un po' più minaccioso, credo. Adesso ci metto anche il gel sopra, di sopra la cosa. Vabbè. Ah, ora l'ha fatto, possiamo andare. Finiamo di esplorare tutto al massimo. Sì. Cioè, tanto adesso che diventa giorno. Ecco, facciamo una gita... Una gita. Turistica. Sì. È l'esplorazione. Madonna santa. Oh. Dai, ma quanto sta laggando. Perché voglio spegnere il telefono? Magari è anche colpa sua. Ma no. Non so. Aspetta, mi... Aspetta. Che sta succedendo? Lag o ti sei fatta male fisicamente? No, no, no. Lag, solo lag. Ah, ok. No. Perché sei lì sotto? No, è pietra. Stavo guardando... No, no, è legno. Cioè, c'è un amatra. Io voglio l'anatra. Dov'è? Ah, niente. Eh, c'era un ne volata via. Eh, no, no. È lì, è lì. Volevi uccidere l'anatra? Voglio uccidere l'anatra. Ma perché? Guarda, guarda che... Tutto! Poveretta. Il divertimento sadico di JD. Eh, sì. Ma lo sai che solamente le persone malate si divertono a uccidere piccoli animali? Eh. È una citazione, sorry. Perché è questa cosa? Scusa, io sto scavando qua per facilitare e tu mi chiudi dentro. Ahia! Ho visto... Non ho visto uno slime che mi ha atterrato in faccia. Questa si chiama disorganizzazione. No, perché stavo cercando di capire che cazzo stessi facendo tu che ci ho messo meno io. Da attraversare il tutto. Succede. Stai morendo? Eh, no, però mi ha colpito uno slime. Allora. Eh, qua, qua, ci ho tutto messo bene. Perché? Boh. Rope! Ho preso un casino di rope. Ho 40 di rope. No, 400, scusa, di rope. Ah, io ho 464. Chi è? Ah, ok. E io mi pio tutti i tuoi soldi. Che cosa? E adesso andrò a prendermi anche i miei. Che ho perso prima, morendo malamente. No, forse erano quelli i miei. Non lo so. No, ecco i miei. Ok. Ti lascio la tua morte. No. 34 di silver e 43 di copper. Cooper. Marò, sei lento. Sa. Forza. Dai, piano piano ce l'arrivo. Mo? Mo come cazzo la penda? Mo faccio conto. Ma no. Eh, ma ho sbagliato. Ma sì, che se ne frega, tanto siamo pieni di rope. Beh. Ma ce la fa? Iiii. Ma sto cercando di recuperare la rope che ho buttato. No, intendevo io. Al mio personaggio. Ah, ok. Perché non è controllato da te, ha una volontà propria. Alcune volte sì. Mi so che c'hanno due cose da prendere qui. Mi prendo. Ok, niente di utile. È lo sic luminoso. Così lo lanciavo e vedevo che cazzo c'era in fondo. Ma vabbè. Eh. E boh, facciamo... Esploriamo tanto. Hola. Ok, si può gestire. Dobbiamo arrivare fino alla fine del mondo. Andiamo... Usiamo la troccia di giorno, dai. Usiamo... Sì, perché... È come quelli che usano gli occhiali da sole di notte. Sì. No, in realtà serve una cosa ben specifica usare gli occhiali... Da... Da... Ah! Gli occhiali da sole. Di notte. Di notte, sì. Ah, un... Ah, un cazzo. Ah, un significato suo. Tipo. Ah, porca puttana, c'è tra la di merda. Eh... Quando stai fatto... Almeno non ti vedono. Ah, ok. Almeno, come se sempre... Non ho questo problema. Eh, io purtroppo conosco gente che... Che si fa e quindi io non... Cosa è successo tutto da un tratto? Stai per morire! È bello come il deserto si è confinato con la neve. Ma stai per morire tipo troppo male! Vai via! Lo uccido io! Ah, ok. Aspetta, c'ho delle pozioni. Ho dei funghi, dici che mi... Merda. Sì, sì! I funghi tirano vita. Oddio, non tantissimi. Merda, merda, merda! Ma! Aiuto, aiuto. Sei morto? No, per po'. Oh, oh! Dobbiamo entrare assolutamente qui dentro! Ah! Dai, mi ha ammazzato con la merda! Ma che cazzo? Aiuto. Swim! Swim! Intanto vedo che vai avanti e indietro alla velocità della luce, tipo lag. Dai, piano piano ti raggiungo. Senza fretta, chiaramente, perché l'altro... È viva! Che cosa è stato? Ti avevo visto quanto tempo ci ho messo ad aggiungerti. Che cosa è stato? Se non lo sei tu, io non ne ho lì con te. Non lo so! Non lo so! Ho fatto... Ho tagliato un pezzettino di sabbia, ho fatto... E faccio... Ok, il mercante che viaggia. Dove sei? Ecco, questo qui purtroppo non possiamo dargli un posto per dormire, però ci vende roba. Ah, ok, perché non possiamo dare un posto per dormire a quello lì? Perché questo qui viaggia come cazzo gli pare. Ah, ok. Ah, questo coso? Shop. Ok, io non ho più soldi come è però, vediamo. Eh, Destiny Wood. Seic, consumabile. Durata 4 minuti. Destiny Wood. Dynasty Shams. No. Stopwatch. Extend grip! No, 10 di oro. Sai cos'è questo? È lampino. Sì. Ok, io 10 di oro non ce li ho però. Neanche lontanamente. Quindi andiamo in quel posto che avevo visto, che secondo me è tipo lì una piramide. Ok. Dice che troviamo un sacco di oro perché è una piramide, quindi... Ma non lo so, io tipo l'oro l'ho trovato, però ero scesa tipo un milione di anni in luci. Prima, quando ti ho detto vieni a giocare, io ero tipo su Terraria che stavo... Ho trovato l'oro. Non ce la fai? Eh, sono caduto. Eh, non è? Quel buco lì ci passiamo sopra con un mattoncino così non ci cadere più dentro, tanto è inutile. Un pesce rosso così ci dà uno di argento. No, a quanto pare no. Ci dà uno di copper se ci va bene. No, è tipo sulla Playstation, almeno la versione che ho giocato io adesso non so se è anche sul computer prima. E prendevi i pesci e ti davano... Ah, ma quello lì con la fishing era una hop. No, no, se li uccidevi li potevi raccogliere e ti davano uno di argento ogni pesce che prendevi. O li usavi per creare roba. Ci sei? Sì. Ammazzavo gli slime, da che c'ero? Ah, ok. Ah, ma adesso sei comporso davanti. Devo capire... Oh, li do tipo... Ok, quanto gli devo dare di RAM per farla andare? Ma do... Io avrò già dato tipo 5 di RAM. Ma è una connessione, dai. Ma no, perché mi laggerà solo anche quando sono in single player. Ah, allora non lo so perché. Ma io neanche la gestisco. Con i più leggeri del mondo. Mi chiedo, mi lagga Minecraft e mi lagga questa roba. Faccio, ma perché? Ma io... Boh, non... Io non la gestisco mai la RAM. Faccio tutto a cazzo. E non ho più problemi comunque. Quindi devi fare così anche te. Mi so che c'è un computer più potente del mio e... Pensa, ho un computer più potente del tuo. Eppure mi lagga un bordello anche in single player. Sì, esatto. Ma che merda. Cioè, Bioshock a confronto. Cioè, porca... Vabbè. Eh, comparo di nuovo che lagga? Sì, ti sto vedendo laggare la connessione, secondo me, però. Eh, come fa a laggarmi anche in single player? Scusa, offline. Non lo so, questo. Eh, appunto. Dunque Bioshock non è pesante. Andavo sul mio computer vecchissimo. Ah. Intendo... No, ho visto come va l'infinity. L'ultimo. Cioè, va abbastanza. Anche se fra poco... Con la play... Eh, eh, se mi arrivai... Eh? Sì, infatti. Sì, vuoi resistere alla play. Cioè, tu hai un computer super mega e vuoi resistere alla play. Sì, esatto. Ma che super mega? Ma scusami tanto, eh. Cioè, hai un... Un... Una... Cos'è? Una GTX 720 di scheda e... Eh, va bene, mi zica. E cos'è? Un i7 di processore? No, un processore non credo avere i7. Mi sembra di sì. Io mi ricordo così. Non lo so, poi guardiamo. Cioè, avevo comprato il computer tuo è un po' difficile. Cioè, vabbè, si può, ma devi spenderci... Eh, dovrei spenderci tanto, perché l'unica cosa... Tipo... Il mio è a consumo basso. Tipo io di watt da usare ne ho un cazzo. Cioè, ne ho davvero pochi. Infatti, la... A basso consumo, la scheda media che ho comprato. Vado. Vabbè. Perché il mio è un po' tutto computer d'ufficio. Pensa un po' te. No, no, se la città non mi cadere in testa. Oh, grazie al cielo. Però c'è un casino di potenza, eh. Potenza! Che potenza! Ok. Attenzione, che... Queste cose si possono vendere, se nemmeno le dubbiamo. No! Sei già guardando tu dentro la cesta. Non è assolutamente vero. No? No. No, no, perché non mi è per la cesta. Aspetta. Non aprirla, che è qua, io, se no... Ah, si possono rompere, Stefano. Io dubbo gli stendati. No, sicuramente si possono vendere. Ma sono già pieni. Zio, fa quanto... C'è un oggetto che non posso raccogliere. Non è che è da rompere. Non lo so. Io vorrei aprire la cesta. Oh, fatta. No, è la condizione che sta andando così tanto bene. Oh, my gosh. Mi sembra che mi ha preso col mattello, stai schifo. Ah, 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 ho trovato una cosa fantastica. Attenzione. Posso galleggiare per qualche secondo. Ah, ok. Ho preso una cassa d'oro. Sì, io credo che quello forse si possa prendere solo col martello, la roba che c'è dietro. Peccato. No, perché se si potrebbe rubare, forse ci dava anche uno di argento a coso. Che non fa schifo. Vado, guarda quanto sbattiamo la testa. Sbattiamo la testa. Su, monsh. Cazzo, quel cos'è lì non dobbiamo andarci. Tanto c'è i miei capelli schifosi che mi permettono di resistere a... Eh, cos'è questo? Fermo, fermo. Non ho visto niente. Ah, no. Credevo ci fosse qualcos'altro, invece niente. Guarda, scendiamo. Venga la barca va. Da quant'è che registriamo? Da 20 minuti neanche? Ok. Ah, neanche 20 minuti? Buono. Io purtroppo riesco a fare solo da un quarto d'ora, 20 minuti, perché se no non riesco più a caricarle. Vabbè, anch'io c'ho una connessione, forse è anche peggio della tua, però sta lì, vada da solo. Ma quanta cazzo è lunga! Credo che forse siamo quasi arrivati. No, come non è detto. Acqua. No! Aiuto. Merda! Aiuto! Aiuto! Non vero niente! Neanche io. Ok, ho attaccato una torcia, però. Che cosa c'è di sotto? Allora, ci conviene aprirci un po' di... così. Sperando che ci sia qualcosa per defluire l'acqua. Sì, qui sotto c'è una caverna. La defluire a morire l'acqua? Sì, via. Ah, aspetta. Attenzione, non saltare qua, ok? Sì, perché si rompe. È ghiaccio. Ah, vuoi? Che stupido. Infatti. Dai, assolutamente per provare. Sì, ma guarda, io salto poco e... E si rompe subito, lo so. No! Merda! Riesci a salvarti? Praticamente... Ok. Ahia! Ahia! Che cazzo è stato? Riesci a salvarti? Ah, ah, che cazzo è stato? Perché siamo due zombie adesso. No, siamo avvelenati. Ahia! Che cazzo mi ha colpito? Non lo so. Mi ha tolto 40 ore di vita. Mi sa che era una trappola. Madonna, se è trappola di merda. Dobbiamo trovare i bastoncini che si possono illuminare. Qui c'è un bel po' di materiale di vario tipo, eh. Lo d'accordo. Io questo come faccio? Tongue steno ora. Sì, il tongue steno sì! Oh! Hai visto! Cosa? Perfetto. Adesso lo rifaccio. Prenda il tongue steno. Aiuto. Madonna, quanto che sta trancando. Adesso ti faccio vedere. Poi c'è anche un'automatica qua che non riesco a vedere. Iron ore. Ok. Ok, voglio dire che di metto che notte. Guarda! Dai, che ce la faccio. Cosa devo vedere? Cos'è il tappeto volante? E' quello che ho trovato! Ok, aiuto. No, ok. Proviamo... Di qua c'è qualcosa, vedo. E' un'altra caverna. Prima di annegare cerco di scavare un po'. Allora, così si abbassa un po' l'acqua e riusciamo a passare circa. Perché voglio vedere dove portano queste strane scale. Eh sì, è una cosa importante per la vita. Sì, esatto. Cioè, evita di morirmi annegato. No, no, ma sono a lungi dal morire annegato. Eh, cosa? Non ho capito cosa hai detto. Sono a lungi dal morire annegato. Attenzione che c'è un sand bat. Stai cercando di ammazzare. Il pistello del deserto. No, ma che sand, che stupido. Eh, ice. Merda, non riesco a farla defluire. Eh, vabbè, scendiamo qui. Oh, tanto ci potrà più o meno allo stesso punto. Ah... Vabbè, qui possiamo farla defluire volendo. Sì, sì, i pipisai non lo panno il cazzo. Ok. Aspetta, vediamo prima che cazzo c'è. No, allora. Piano, piano. No, sti così qui sotto rompono. Vedi quei cosi lì che salta sotto? Adesso gli anneghiamo. C'è scritto snow... Snow stocka. Ecco. Quello lì è una cosa orribile, è bruttissima. Adesso gli anneghiamo con tutta l'acqua che c'è lì. Buono. E però dobbiamo fare defluire l'acqua, quindi togliamo sto coso. No, ok. No, era solamente perché volevo vedere dove a chi andava. Anche le troce, non buttiamole via. Aspetta che le prendo su. Ok. Però tienile per far luce, almeno un po'. Mi tengo in mano uno. Ok, ecco l'acqua che deve defluire. Ma la fiera delle scale non c'è lì. Abbiamo scordato che non c'è un cazzo. Eh, si è già riempito tutto? Ehm, sì. Ma la fiera delle scale non c'è veramente un cazzo, eh. Era lì solamente per... Ehm, aiuto? Eh, no. No, quel coso lì, devi colpirlo. Anche se rimbalza un bordello. Quale? No, ti avevo visto sotto. Ah. Ah, proprio un cazzo parte portavano. Che cosa è questa roba? Aperta sembra dei minerali. No, dei materiali... Topazio. Ah, ok. Ho detto giusto? Sì, sì, Topaz. 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 Vuoi scendere e proviamo a continuare lungo questa caverna? Oh, sì, lì sotto vedo qualcosa di strano. Ok, comunque interromperei prima la parte, io. Ok, così puoi registrare io, va bene. Ok, anche perché siamo a 25 minuti e mi sembra il caso di interrompere. Ci vediamo nella prossima parte nel canale di JD. Ciao!